Link che tanti teorizzavano tra terrorismo e povertà, le origini sociali del terrorismo. Questa volta i responsabili dell'atto di terrorismo, come già in altre occasioni, sono giovani di alta, di altissima società, figli di ricchi e di potenti. Allora è il caso di cancellare le spiegazioni di comodo, guardare in faccia la realtà e fare due cose. Primo, smetterla di essere ambigui. Le ambiguità sul Medio Oriente, lo dico anche al Governo, non ci giovano quando andiamo a votare al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E la seconda, che è la più importante, è la sconfitta militare di ISIS in Siria e in Libia. Il nostro Occidente non può sottrarsi a questo. I giovani radicalizzati saranno meno orientati ad aderire ad una causa che vedranno perdente. Invece continueranno ad aderire, temo, ad una causa che dovessero vedere vincente a causa delle inerzie del nostro Occidente. Grazie, deputato. Adesso do la parola alla deputata Piero Catelli. Prego. Grazie, signora Presidente. Dopo i sanguinosi attacchi a Parigi e Bruxelles, cuore dell'Europa, a Istanbul, porta dell'Europa e città simbolo dell'unione tra Oriente ed Occidente, il discorso è stata la volta di Dak, una città musulmana in un paese musulmano, dove hanno trovato alla morte nove nostri connazionali, ma anche alcuni giapponesi, una ragazza indiana, tre bengalesi, e poi domenica la volta di Baghdad, dove due attacchi kamikaze hanno provocato duecento morti. Ci troviamo nel pieno di una folle guerra che non risparmia nessuno. Nel caso dell'attentato in Iraq, come per quelli di Bruxelles e Parigi, la rivendicazione dell'ISIS è stata chiara. Per la strage di Dak non è ancora certo se si tratti dell'ISIS o del gruppo terrorista Jabayetul Mujahideen Bangladesh, che vede tra i suoi militanti giovani istruiti, colti di famiglie benestanti. Importa, ma fino a un certo punto. È certo che chi ha seminato il terrore a Dak ha inferto, volutamente o meno, un duro colpo anche all'economia di uno dei paesi più poveri dell'area, che si basa quasi esclusivamente sul tessile, richiamando grandi gruppi stranieri. Ora queste imprese vogliono andarsene. Una prima vittoria del terrorismo. Tessili erano i nostri imprenditori o imprenditrici o le tecniche che si erano spinti fin là per andare ad investire o ad acquistare. Una delle vittime era una mia concittadina, Maria Riboli, una giovane bergamasca di 34 anni, che lavorava nel settore dell'abbigliamento e si trovava in Bangladesh da alcuni mesi ed è stata barbaramente trucidata come Simona Monti con cittadina del collega Pastorelli o Marco Tondat, Cristian Rossi, Nadia Benedetti e altri nomi. Ecco, tutti che non conoscevano il Corano, una tragica scusa per nobilitare un gesto disumano e per scatenare una guerra di religione. Ma la religione a Parigi, Brixelli, in Iraq, in Bangladesh non c'entra nulla. Non si possono accomunare oltre un miliardo e mezzo di musulmani ad una banda di terroristi criminali che usano una bandiera fintamente religiosa e che molto spesso, lo si è visto in Europa, non hanno una frequentazione seria, continua, profonda con la religione. Così come a nessuno è mai venuto in mente di accomunare i cattolici ai terroristi dell'Ira. Non facciamo l'errore di accomunare Islam a terrorismo. Oggi, però, non è il momento delle polemiche, ma quello del cordoglio e non ci sono parole per esprimere sgomento, orrore, per l'atroce mattanza di Dacca. Grazie. Grazie, deputata Locatelli. Adesso do la parola al deputato Pino Pisicchio. Prego. Grazie, onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Con tristezza torniamo per un'ennesima volta a compiere in quest'Aula un rito di commemorazione. Troppe volte è accaduto a causa di morti violenti, in un tempo che invece vogliamo rivendicare alla civiltà della pace tra i popoli. Il fermo immagine che è rimbalzato cento volte nei media mondiali ci restituisce quel momento maledetto in un posto lontano, in una sera che avrebbe dovuto essere di normalità e che invece si tramutò in una ordinaria follia. L'orrore del racconto dei sopravvissuti risuona ancora...